Una riforma che crea timori, soprattutto al Sud, il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata vede crescere le preoccupazioni sulla possibilità che le regioni a statuto ordinario possano vedersi riconosciuta la possibilità, ad esempio, di trattenere il gettito fiscale. Un processo definito da alcuni la secessione dei ricchi, con il possibile aumento del divario tra le varie regioni d'Italia. Proprio per questo il consigliere comunale di Taranto, Gianni Liviano, ha organizzato un convegno per offrire riflessioni da Sud sull'argomento, con il contributo tra gli altri del giornalista economico del mattino Marco Esposito e di docenti e ricercatori dell'Università di Bari. Beh, il Sud è proprio sul baratro, stanno andando via gli ultimi giovani, si può dire, drammatizzando un po', ma questa è la realtà dei dati. Quindi bisogna assolutamente invertire la rotta e farlo adesso. Quindi chi vive nel mezzogiorno deve avvertire la sensazione che tutta l'Europa sta scommettendo sul Sud, altrimenti non ce la facciamo. È assolutamente necessario per le persone del Sud prendere atto di quello che può accadere se chiudiamo gli occhi e ci risvegliamo tra due anni con una gestione, per esempio, della pubblica istruzione, della scuola, dell'università, piuttosto che delle infrastrutture, dei trasporti, delle autostrade, che racconti evidentemente una autonomia delle regioni nelle scelte. Si mettono in discussione la condizione di uguaglianza, dei principi di solidarietà e di unitarietà dello Stato italiano.